La grande carica dei 100.000 verso le elezioni del 4 marzo tra sorprese, idee, impegno serio e slogan mirabolanti, le richieste del popolo dei credenti, priorità, famiglia, bambini, scuola, lavoro e sul lavoro la via Crucis dei 500 dell'Embraco che bussano a tutte le porte mentre l'azienda conferma i licenziamenti, la rete di solidarietà, gli interrogativi sull'occupazione. Chiesa, il documento dei vescovi sulla moris letizia e il nodo dei divorziati, il grande appello dei teologi che dicono puntiamo al cuore del Vangelo, le fiamme alla sacra di San Michele, le cause e gli interventi, il futuro di un raro simbolo della fede nei secoli. Il problema del comune di Torino oggi, dopo le indagini giudiziarie, conseguenza del caos in piazza San Carlo, il problema del metro. Finestra internazionale, i grandi a Davos si confrontano con Trump che rilancia le sue scelte. L'eterna guerra in Medio Oriente, le stragi continue, le incognite sul domani dell'Algeria. Scienza, le scimmie clonate, i robot, gli uomini cadia, dove va il mondo? La storia delle scoperte del percorso scientifico dell'uomo con Monsignor Walter Dann. I cattolici e il loro ruolo nella grande guerra, ma subito i focus sull'inizio della quaresima, il commercio eco e solidale, le iscrizioni a scuola con tutti gli indirizzi. Dalla provincia agli immigrati, la situazione a Cirie e nelle valli di Lanzo. Oratori, Valdocco, il cortile e l'antidoto ai net, parla il nuovo direttore, il carnevale degli oratori, la mappa, al Sermig i ragazzi alla marcia dei popoli, festa della pace promossa da azione cattolica e arsenale della piazza. E ti, da trent'anni con i ragazzi, un convegno a Valdocco, la voce e il tempo, l'altro giornale.